buongiorno buonasera ciao serena ciao eccoci siamo qui in compagnia del nostro amico francesco questa tua sessione per francesco come stai serena benissimo molto molto bene emozionata sì il giusto giusto ok ti faccio un induzione veloce classica o cosa guarda magari facciamo da 10 a 1 però veloce va bene abbiamo chiudi pure gli occhi rilassati non pensare più a nulla iniziamo abbiamo sentito i punti di francesco respira profondamente dalla velocità che più ti aggrada sei già abituata ad andare in ipnosi quindi ti basta che conti da 10 10 9 10 10 10 10 11 12 12 14 14 16 16 5 4 4 3 2 3 connetti di serena francesco sì lo vedo già da un po e si mostra su un motoscafo è un giovane avrà circa 25 30 anni al massimo dietro ci sono delle montagne quindi penso sia un lago ok ma è lui da giovane o alto sembrerebbe più una vita parallela come ai capelli neri neri lunghi un 3 cm magro sorridente ragazzo solare chiedi il permesso di lavorare in questa sessione per lui sì sì con molto entusiasmo si dice di sei come si chiama in questa vita e arrico e perché c'è la mostra perché felice è una vita felice è un ragazzo molto attivo è solo non ha fidanzate c'è nessuno per ora ma è molto felice a molte amicizie e sereno in quella vita tu hai sentito i punti quindi sai già chi sono gli attori complementari in questa storia in questa vita di enrico ci sono già qualcuno dell'attuale di francesco allora mi viene il papà di quella vita mi viene d'ex moglie ok 4 c'è qualcun altro e la figlia un amico di quella vita la figlia tua figlia attuale sì però un amico di quella vita l'attuale compagna era in quella vita l'attuale compagna la vedo come se come se da lì vedessi poi il futuro di quella vita e la vedo come la futura moglie non so perché nella vita di enrico al momento in cui conosce questa persona che la conosce montagna camminano sono dei camminatori e la cosa si conoscono in montagna durante dei percorsi delle piccole scalate in montagna si è una decina di anni dopo due a circa 40 anni e chiama la sua moglie lì giorgia sarà l'unica moglie sarà l'unica moglie si un vengono i brividi sì è perché ho visto velocemente fino alla fine a moglie non vecchiaia insieme si hanno di giochi insieme no lei aveva già una bambina di quattro anni quando si sono conosciuti all'incirca quattro anni ok quali sono i bene siccome si è andata alla fine di questa vita di enrico vai ai patti che stringono entrambi tra di loro per incontrarsi in questa sì loro si promettono che si rincontreranno in un'altra vita anche se quella è stata bellissima loro hanno avuto un grande amore hanno vissuto un grande amore hanno viaggiato tanto e si sarebbero rincontrati nuovamente perché qui mi viene questa volta per superare degli ostacoli insieme mentre quale è stata una vita proprio senza ostacoli molto serena qui invece avrebbero affrontato insieme degli ostacoli mi viene anche per dei figli e adesso non so di preciso però mi arriva poi anche per dei figli in questa in sì dei figli di lui perché in questa vita lui ha dei figli da altre donne ha avuto altre donne insieme arrivata l'immagine di ragazzini diciamo sì 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 cioè praticamente si ritroveranno si sarebbero ritrovati insieme avrebbero dovuto affrontare degli ostacoli che riguarda sia dei figli che comunque altre situazioni della vita che avrebbero affrontate insieme perché le avrebbe potuto aiutarlo ad affrontare queste situazioni va bene apriamo nella vita di francesco siamo tanto lascia comunque aperta questa vita di enrico in questa finestra apriamo le porte del cinema tu non sei abituata a questa cosa ma hai visto molte mie sessioni se noi il cinema non è altro che un posto virtuale in cui invitiamo i viventi su richiesta di francesco in questo caso a venire ad assistere sullo schermo alla sessione no ma tutto quello che succede sullo schermo si possono evitare anche alla fine e che in automatico hanno visto tutto il film in sostanza c'è solo una condizione nel cinema non si viene per fare casino per spiare per spiare quegli altri per fare mettere tizzania per operare le palle ma per imparare individualmente quindi se invitiamo non so la ex moglie la ex moglie non viene solo per impicciarsi o che viene perché lei come donna vuole non come ex moglie ma come donna vuole capire come funzionano certe dinamiche della realtà virtuale olografica in cui siamo immersi ex moglie ecco era arrivata subito ed era in fondo appoggiata al muro un po arrabbiata teneva il gomito è lì per vedere ma per vedere i fatti suoi fatti di francesco vuole sapere le cose di francesco perché si tiene il gomito è nervosa e come se si mangiasse le unghie ma se stesse cosa ho appena detto non si viene non si può neanche entrare e si viene a farsi i cavoli degli altri quindi ha spattuto la porta è uscita ex compagno quindi la seconda viene no non la vedo no figlio grande figlio grande in prima fila anche anche la figlia un piccolo il piccolo è in seconda fila dietro alla figlia di lui però è in seconda fila solo perché timido si vergogna l'attuale compagna con la sedia proprio davanti allo schermo qua ci sono tutte le poltrone ed è proprio in mezzo con una sedia proprio davanti al palco di come la io vedo a energeticamente molto bella e adesso la vedo da dietro e vedo un colore rosa davidocchema da questo colore rosa sia qualcosina c'è però è la vedo molto bene molto forte energeticamente una bella energia benissimo francesco abbiamo un po di valori vediamoli subito vibrazione attuale di adesso 168 miliardi miliardi c'è la scala giusto 168 mi si spetta 168 miliardi 369 di 0 poi avere anche una toscana non è che è voluto seguire rossi 168 da me arriva anche proprio il numero così la voce 168 miliardi in tanti percentuale di consapevolezza 106 mi arriva 168 uguale come numero non so perché psp e anima e spirito lo dico più che altro per francesco l'anima no ma lo spirito spiegabile come il grande spirito degli indiani d'americano quindi in qualche modo lo spirito vitale delle degli esseri viventi piante animali alcuni minerali esseri umani si spartiscono la torta del cento per cento quanta ps in questo istante quanta anima quanta p e quanto spirito ps 58 42 spirito spirito vite precedenti parallele stessa cosa 1454 e percentuale di cervello utilizzata in una sessione passata abbiamo analizzato questo aspetto e abbiamo visto che è strettamente correlato con le capacità medianiche delle persone lettura del pensiero spostamento degli oggetti e mille altre cose più o meno si attesta su valori bassi 10.2 benissimo francesco e lo yoga è un insegnante di yoga francesco cerchiamo nelle sue vite passate una qualunque connessione con questo aspetto della sua vita attuale scusa nelle vite passate mi può ripetere la domanda scusa mi stiamo portando dimmi 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 la sera giusto ai 168 miliardi e sono giusti no forse erano erano milioni non miliardi milioni se la tua è una scala di miliardi o di milioni di miliardi e quindi molto bassa perché vedo 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 scusa e vedo i 60 ok milioni milioni però mi arriva miliardi si arriva miliardi miliardi 168 milioni sarebbe troppo è quello che mi confonde perché vedo così però mi arriva miliardi no no che è una virgola 168 non è credibile non è mai neanche capitato il minimo storico una miliardo e mezzo quindi 1500 milioni 168 milioni come lo vedi francesco energeticamente lo vedo dietro un po un po grigio cioè lo vedo circondato da una bella energia però poi intorno c'è qualcosa di grigio lui lo vedo bene ma c'è dopo spiegare lui lo vedo energeticamente bene però c'è un qualcosa che ogni età che contrasta attaccato a lui per qualcosa di interno il fisico no no rimane esterno diciamo rimane esterno alla sua energia come se ci fosse tutta la sua energia poi alla fine c'è questo scuro non è attaccato a lui una sorta di aura esatto esatto si esatto proprio fuori laurea c'è questa scurità dietro va bene vite passate ce n'è una o più di una collegate alla yoga qualunque tipo di yoga allora lo vedo su un monte avrà 45 50 anni lo vedo seduto vestito con una veste scura e lo vedo seduto a meditare a fare yoga penso yoga meditare comunque con le gambe incrociate in questa montagna molto alta penso bene che in giappone in giappone dovrebbe essere sì ed era un grande maestro non solo di yoga yoga ma anche arti marziali come si chiamava se lo vedi è il chi è il chi con la cappa ok molto bene e vediamo sia dell'entità i teri che siamo da quelle allora c'è questa cosa scura questa energia scura che è stata creata non vorrei usare poi sbagliate come un sortilegio come se avessero fatto qualcosa a lui che però si difende molto bene e quindi rimane indietro per questa energia che è stata creata non so come la potrei chiamare poi la vedi come entità no no la vedo come energia come del fumo ok chi l'ha messo questo fumo come entità perché è un po come se tu lo vedessi come impianto no un fumo se diciamo un impianto c'è un elemento di collegamento tra l'entità e francesco io vedo una donna che si rivolge a qualcuno per creare questo per creargli difficoltà e si rivolge a un professionista diciamo ok questo dono non suo cliente sì se prima non lo vedevo bene ma quando mi hai fatto la domanda sì io vedo vedo una donna comunque giovane con i capelli castani lunghi ma appare così che lavoro fa cosa fa nella vita anche solo il contesto ma la prima cosa che mi è arrivata è arrivato che insegna non si fosse in una maestra mi arriva questo vedo anche con dei bambini mi appare così tonio ma l'entità sì la vedo un falco alla sua destra un file con un'aquila alla sua destra è un'ombra nera adesso un disincarnato basta non vedo altro ci sono degli edl essere di luce si vedono un solito come delle immagini delle luci a volte come di biancioletti tutti 11 si uno vedo qua nella pancia nello stomaco dentro fuori si 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 sempre dentro sempre fuori no no entra ed esce entra in alcuni momenti non spesso però entra in alcuni momenti quando è più agitato come si chiama questo dl l'ox che è originale non lo chiedo da tanto ma hanno un livello poi calcolarlo come ti pare solitamente per esperienza più la lettera è una lettera un numero prima la lettera dell'alfabeto poi il numero più la lettera è verso la z e più il livello è alto e più il numero è alto più il livello è alto quindi uno z 100 è molto alto 1 a 1 è bassissimo era mai arrivato a 5 niente di che può essere addirittura gli ha trovati raramente talmente sono deboli no perché lui comunque lo vedo che e probabilmente si francesco scusa francesco lo vedo che lavora molto per cercare di mantenersi più pulito possibile non vedo che ha il corso entità fa molta centra è molto centrato fa molta pulizia fa molto lavoro si 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 vede anche fatto che tiene questa energia fuori da laura è quello è il tutto il suo lavoro questo fumo grigio questo fumo grigio bene esistono le entità mentali connettiti anche a me l'abbiamo scoperta da qualche mese anzi da quasi un anno così come ci sono delle entità eteriche ci sono delle entità mentali semplicisticamente sono le malattie mentali ma non necessariamente definibili come malattie normalmente finora tutti le hanno viste un po come varie forme ma comunque con una sorta di materia elettricità elettrica dei piccoli lampi delle piccole scintille che formano una forma un disegno a volte appunto colore non colora una forma la forma umana una forma di qualunque tipo francesco nera si ne ha una di livello 3 è una che gli dice non ce la farai inutile rinuncia inutile che avanti perché tanto non ce la fa e rinuncia continua a ripetere di queste parole solo quella ha un nome questa entità mentale ma mi arriva rassegnati non so se può essere il suo nome o quello l'intento no non è il suo nome è quello che vuole fare vuole fare in modo che francesco si rassegni solo questo sì e impianti eterici o mentali vedo una placchetta in basso vicino alla zona genitale proprio sotto la pancia come se per bloccare il suo radicamento quella che un al ginocchio ginocchio destra una palla al ginocchio destra e basta nient'altro benissimo causa esoterica serena della vitiligine di francesco e la vergogna è un emotivo quello la vergogna se giudicato in un certo modo da alcune persone anche se lui magari non vuole vergognarsi però nell'inconscio lui si vergogna arrabbiato perché viene giudicato per quello che non è ok in questo caso sembra da una ricostruzione di un qualche cosa che è accaduto un po di tempo fa 19 anni fa 10 anni fa che fria fosse collegato a una specie di incapponimento vendetta dispetto anche legale della sua ex moglie la vitiligine è un problema adolescenziale che sorge a livello adolescenziale in età adolescenziale nel suo caso 45 anni e sì perché lei parla parla malissimo di lui a tutto il paese non solo c'è ovunque a chiunque è un po lui anche se sa che non è vero però si sente un po gli occhi puntati addosso perché comunque pensa c'è anche chi crederà a quello che dice l'ex moglie e quindi lui si vergogna vorrebbe un po nascondersi diciamo a volte la causa è lei questo motivo qua lui si vergogna anche se non ha nessun motivo per farlo però inconsciamente lui si vergogna perché sa che tanta gente parla di cosa e di quello nel senso che la moglie racconta e l'ex moglie raccontava in giro le chiacchiere che cosa di qual è il motivo della vergogna che non è un buon padre matrimoni finiscono è quello sicuramente parlando di quello ma c'è chi parla anche non so se lui lo sa ma mi arriva anche parlano anche che di abusi che lui ha abusato fisicamente diciamo in famiglia che era violento quindi parlano anche di questo e delle voci di questo tipo e io vedo questo sì mi sembra dei gesti di francesco che fosse il contrario fosse subito no francesco tu hai subito delle botte sì perché questo è quello che lei racconta e non è quello che è reale quello che lei ha meglio vedo questo che la gente parla di questo non che lei l'abbia fatto nella realtà lui non è bene bene no no chiamiamo tutti quelli che hanno avuto le cui orecchie sono arrivate queste voci le cinema il paese il cinema grande ci arrivano si portano anche la sedia ma c'è la sedia ci sono anche le tovaglie sotto il sedile c'è una vic dopo spieghiamo che cos'è questo secondo invito per la ex moglie vuole venire per imparare per se stessa in quanto anima non in quanto ex moglie donna anni nome cognome si adesso arriva a testa bassa con la testa bassa arriva se anche lei insieme a e con cittadini viene come anima come persona si in questa vita con un ruolo collegato quello di francesco ma in realtà per imparare per sé il proprio percorso sì sì adesso sì dove si siede alla penultima fila quanti sono quelli del paese o comunque quelli che hanno un po di novella 2000 in testa 52 le persone ottimo che cos'è la vitiligine monica in generale una cosa che vale per tutti si può dire esiste allora mi viene fuori autosabotaggio autopunizione senso di star che stai prendendo un qualcosa che non ti appartiene proprio con le mani no mi fa vedere questo tu stai andando a prendere un qualcosa che ritieni nel tuo profondo che non ti appartenga che non magari non sei meritevole non sei degno di prendere quella roba lì perché la depigmentazione perché è un qualcosa di veramente disomogeneo imbarazzante che ti fa sentire subito diverso e che qui dà subito la sensazione di io non sono a posto capito perché il trasferirsi da dentro a fuori quello che tu senti cioè tu non sei a posto in quel luogo tu non sei a posto in quelle cose che hai quelle cose non sono tue non sei a posto se prendi qualcosa che non ti appartiene l'adua diciamo la sensazione di essere un ladro e la vitiligine lo mostra agli altri è come se io auto denunciassi me stesso e ecco è il reso benissimo se auto denuncia bravo bravissimo lui non ce l'hai ai genitali come anche i genitali qualche macchia avvide si è perché spesso è lì infatti ho notato questa cosa perché spesso e mani e genitali normalmente ho notato questo difficilmente il viso in casi molto estesi il viso e mani e braccia gambe perché sono le cose più allora le mani sono proprio quelle pubbliche per tutti visibili a tutti dire la vergogna genitali e per il rapporto a due capisci tanto ti disturbo averlo sulle mani perché le mani le vedono tutte tanto disturbo averle sui genitali perché quella che si vede nell'intimità quindi vai a compromettere sia il rapporto pubblico che il rapporto privato più profondo più intimo esatto cosa significa cosa succede tecnicamente nel corpo il corpo riceve quale messaggio e che cosa avviene a livello esoterico nella depigmentazione della pelle non so adesso mi sta facendo vedere come uno spostamento come se si creasse dei vuoti ecco come se ci fosse una sorta di disorganizzazione per cui si fanno da parte in alcuni punti e facendosi quel vuoto si crea quel vuoto e quel vuoto crea quella macchia lì quindi quello spazio che dovrebbe essere occupato non lo è più c'è solitudine lì c'è solitudine e dove c'è quella solitudine lì solitudine profonda solitudine cellulare lì rimane appunto la macchia depigmentata è come se si creassero proprio dei luoghi in cui nessuno vuole andare lì e sono come non so come dirti non curati morti francesco a cinque corpi uno è l'emozionale analizziamolo guardano in piedi guarda proprio la sagoma del suo corpo dimmi se vedi emozioni ad alta frequenza pelle pulite alte emozioni a bassa frequenza sì io vedo la parte sopra io vedo gioia felicità vedo sento questa energia forte dalla parte dal petto in su mentre nello stomaco vedo un po di rabbia e andando in giù non so come spiegarlo è quando viene un po con l'attenzione un po quel tremore sempre collegato un po alla rabbia però dal petto in su è tutto bello no nel sommato è bella una bella energia da un po questa rabbia che mi arriva per la rabbia tutto per quella situazione comunque vergogna rabbia perché lui comunque è una persona onesta giusta sì e a quell'emozione vi vorrebbe che tutto finisse cioè lui non aveva ancora di verso nessuno non vorrebbe che tutto finisse potesse proseguire la sua vita serenamente ok dalla situazione della seconda relazione la seconda compagna sì cioè la ex compagna prima è una moglie ci sono degli emozioni emozionale collegato o della seconda no non vedo nulla no come se avesse già lasciato andare questo mi arriva da seconda no la compagna in questione la seconda è nel cinema mai detto no non era venuta va bene però noi possiamo andare a trovarla in quanto mi dicono dalla regia è lei l'insegnante coi bambini quindi ti chiedo serena lei quella che ha fatto il sortilegio aspetta è che adesso allora allora io vedo lei a me sembra lei mi arriva che lei la vedo sul discorso della lettera posata una lettera io vedo che posa una lettera la vedo così e alla porta posa una lettera e mi arriva che lei tu mi parli di lei mi arriva che lei il sortilegio non è sortilegio invece mi arriva che un altro non mi arriva che lei mi arriva che è un'altra più giovane una rispaglio è vedere così la vedo così non mi arriva che la stessa persona la lettera e quella è il sortilegio quello che io vedo attaccato dietro di lui questo fumo non mi arriva che la stessa persona lo che andiamo con ordine alla lettera che viene lasciata davanti alla porta di francesco dove lo si mette in guardia dalla sua attuale relazione no ok si dicono circa la sua compagna che è una persona terrificante orribile e di brutto aspetto è la ex compagna sì 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 è l'ex compagna perché gelosa sì non so se la stessa porta comunque sempre davanti alla porta un sasso con una faccina un po inquietante no al sasso è come diceva lui dei bambini che giocavano infine sacra sindone un giorno si sveglia fa un po caldo estate ma le macchie lasciate sul sul lenzuolo sono particolari non sono solo di sudore ma sono anche come dei puntini neri delle macchie che macchiano lenzuolo chiaro ecco è la tempio lina che lui ha dietro quindi volendo è riferita al lavoro al sortilegio sì bene quindi anche se non vengono nel cinema anzi non le invitiamo nel cinema che ti dico questo scusami perché mi arriva queste immagini vedo questa ragazza che è più giovane di quella che di come vedo è l'ex compagna che vedo questa ragazza più giovane e la vedo con i capelli castani più o meno fino alle spalle la visualizzo così mi sembra più giovane a vederla prossimi arriva che più giovane scuola del sortilegio ok la ex compagna ha mandato la lettera per quale motivo ha appoggiato la lettera per quale motivo perché gelosa e come l'ha scoperto con i social ma arriva con voci di paese che lui era aveva una nuova compagna intendi masconi voci di paese e arriva i social del paese scusa voci di paese un quali gliel'hanno riferito ma è più è un po' dispettosa nel senso col fine che magari lui la lasci ma è un po' fatta così nel senso col che mi arriva che lei si l'ha fatto perché gelosa vorrebbe che lui ci per ripensasse che lui pensasse che questa compagna che a non va bene però ha fatto un po posso dire un po con ingenuità un po un po infantile ecco così va bene non vedo tutta quella cattiviere secco la cattiviere che magari uno ci può mettere la vedo più una cosa infantile va bene andiamo al sortilegio andiamo seguiamo la donna più giovane ammiratrice doveva cosa fa avete entrata in uno studio in questo studio vedo un uomo che mi si si ce lo vedo con una tunica ma penso sia solo figurativo è come se facesse un incantesimo d'amore un legame d'amore ecco ma non ho riuscito comunque però ha creato questa energia di bassa frequenza addosso a lui che lui con manda via lui continua a mandar via però è ancora intorno alla sua aura però lui non la minimamente toccato lei lo paga il tizio sì 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 lo paga quanto vedo 50 euro economico e vedo una banca una banca nata da 50 e lui cosa fa tecnicamente il maghetto per riportare io vedo che c'è la foto di lei c'è la foto di lui c'è un un grafico e ci sono delle frecce c'è la foto di lei di lui ci sono delle frecce ci sono dei cerchi in mezzo a queste trecce e poi fa tutto un lavoro io lo vedo come un'era di estesista ecco che fa questo legame ma usa anche degli oggetti delle parti del corpo come capelli di francesco che lei ha rubato magari ha trovato no vedo che ha un biglietto un biglietto con la scrittura di francesco usa quello con una foto che lei ha stampato questo biglietto con la scrittura di lui poi ovviamente lei ha dato i vari dati che servivano e lei sì però non ha funzionato perché francesco comunque manda via tutto sente le cose che avevano lui le manda via poi diciamo che non era neanche così potente questo questo legame d'amore diciamo che ha fatto però persiste come si negativo sì perché lei perché lei scusami è perché lei continua a metterci l'intento perché comunque quando lui fa questo lavoro da di estesista fa questo lavoro c'è l'intento di lei anche insieme lei continua a pensare a lui quindi continua a mantenere l'intento attivo ma lui forse non lo sa neanche cioè non pensa neanche che sia lei cioè di lei non lo so è devo guardare bene dunque lui ha dei clienti e delle clienti spesso delle clienti a una cliente andiamo al limite dell'ipnosi qua è una cliente tali come la conosce lei come lui fa fa dei corsi perché la vedo più come una corsi sta come qualcuno che ha fatto dei corsi con lui sì ma le lezioni sono definibili anche come corsi lei è una che fa lezione con lui sì 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 insieme in una classe o one to one no io la vedo con altre persone ci sono anche altre persone e c'è lei c'è lei ci sono altre persone c'è lui vedo anche che arriva anche adesso mi sembra che arrivi anche la compagna di lui in questo momento vedo questa stanza sono tutti seduti a gambe incrociate vedo lei vedo francesco in cima alla stanza e vedo che arriva la compagna di molto bella attuale si bella 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 perché bella e manda tutto questa bella energia sempre questo mi arriva questo non so se poi così nella realtà però mi arriva questo viso molto sorridente se quelle persone tranquille sorridenti con quel bel sorriso e mi mette tranquillità si bella va bene abbiamo ben poco da fare in questa sessione ma ci stiamo divertendo tanto allora causa esoterica della mancata vendita della casa in comune con la ex moglie esoterica perché causa reale si vuole vendere per far dispettucci eccetera non ne ha bisogno di questa casa ci vive solo per dispettire infastidire francesco etericamente mi si da si rappresenta con un portone e un lucchetto gigantesco lucchetto enorme e perché l'intento che a lei di non venderla e di fare rispetto a lui è molto forte è solo quello è lei che deve calmarsi e l'energia di lei che non la fa vendere non io non vedo nulla faccio il giro ma non vedo nulla che non va con la casa è proprio perché anche anche a livello esoterico e l'energia che lei ci mette che non la fa vendere si tiene lontana le persone e poi comunque scusa e sto guardando una cosa cioè le donna non ha proprio la minima intenzione di venderla lei non non vuole proprio cedere neanche quando il prossimo anno ci saranno delle condizioni che non spiego sì no 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 è un dispetto che lei vuole fargli lei è rimasta molto non so se dirti che ha sofferto da questa separazione o è più per orgoglio per un grande orgoglio che ha perché mi arriva più che sì che è un per orgoglio che lei fa tutti quei dispetti e non vuole venderla si deve lei non ha un compagno attualmente non mi sembra no no ecco è anche quello incide perché lei non lascia al suo pensiero sempre su francesco sul come rovinare la vita francesco su come fare tribolare francesco è una persona con dentro tanta rabbia e infelicità e quindi si accanisce su di lui è solo quello il motivo non c'è nient'altro ex moglie ex compagna e cliente cause esoterica di tutte queste donne che vogliono francesco e gli rompono le palle aspetta magari anche in un'altra vita eh sì perché quello che mi sta arrivando perché vi arriva che loro tre queste tre donne hanno vissuto insieme in un'altra vita con francesco ma stavo cercando di capire chi erano tra francesco queste tre donne ma le streghe di stuic è vissuto ragazzo lo giuro mi sono le ho viste rappresentate vestite da streghe c'è la pfeiffer share ecco l'altra casa random bene la mora la bionda e la rossa e tu sei jack nicholson non voglio dire che sei anche il diavolo nel film adesso che ci pensa aspetta che adesso mi ricentro lì vai in quella vita si ok poi ciascuno uomo queste tre donne sono tre donne sì allora le vedevo da strega però non sono non sono così li vedo in un villaggio lui è un proprietario di un bar e loro tre sono per lui sguattere sono le cameriere con le fanno le pulizie però sono in quell'epoca dove hanno questi vestiti lunghi fine piedi con davanti tipo un grembiule e lui le tratta le tratta proprio come serve tutte e tre loro sono molto amiche loro tre giurano di vendicarsi sì lui è anche alle mani lunghe allunga un po le mani le tocca niente di più è però diciamo un po ma chi è così se si chiama lui alfred si chiama alfred avrà sui 65 anni ai raffoni grigi a un gilet ti direi forse nel texas sì l'america epoca coloniale sì lui e beve anche a volte beve alla polline dice di tutti i colori dietro e le offende le tratta male le paga poco le fa anche quando arrivano i clienti le obbliga anche insomma a farsi dare qualche toccatina sì perché i clienti cos'è un saloon è un saloon bravo si bravo è un saloon sì però loro non sono vestite proprio come si vedono di solito le donne belle in saloon sono più semplici diciamo si sono delle cameriere delle squadre non si entra treni intrattenitrici si è riuscito a dire questa parola sì e allora loro lì hanno giurato l'hanno detto così però è rimasto in eterico hanno giurato vendetta verso di lui si va bene qualcuno direbbe il karma io dico altro chiamiamo serena il nonno paterno di francesco che si chiama come lui lui ha preso il nome ma non l'ha mai conosciuto disincarnato mentre lo chiami dimmi se lo vedi apriamo apri se lo vedi il portale aureo questo posto in cui noi invitiamo i disincarnati ad andare che non è altro che un posto in cui il disincarnato si spoglia di ogni interferenza di ogni specificità della vita che lascia quindi in questo caso nonno maschio di nome francesco eccetera e diventano pura ps che a quel punto non dimenticando tutte le vite vissute tutte le informazioni esperite può decidere liberamente e non più con i contratti karma deve vivere incarnati sei stato buono sei stato cattivo e senza queste interferenze che anche da disincarnati i disincarnati sono interessati da interferenze possono questi ps liberamente nel portale aureo decidere cosa fare per incarnarsi non incarnarsi diventare un insetto un essere umano dove quando come perché ok è arrivato con in mano dei remi stava rimando amante del mare lo vedo magro la persona magra alta di meno 1 70 1 75 così si raffigura e guarda guarda francesco però lo guarda francesco in questo momento è un piccolo è un bambino e lui lo guarda lo vede come bambino perché vorrebbe essere vorrebbe averlo conosciuto ci avrebbe voluto stare con lui voleva conoscerlo dice che gli assomiglia molto caratterialmente e ci parla io sono più pazzerello ti dice cosa vuole dirgli di altro o a qualcuno della famiglia di francesco a lui dice sono orgogliose presa la strada giusta e dice che ha amato tanto tutta la sua famiglia che parla io aveva scelto il suo tempo francesco su scusa con un sì o con un no con la testa tuo papà è vivo si vuole lasciare un messaggio suo figlio al figlio quindi mi da prima mi da prima una pacca sulla nuca e dice riga diritto non so perché dice riga diritto e poi lo abbraccia da un forte abbraccio al figlio ok è stato che c'è silenzio però c'è una forte una forte emozione in questo abbraccio perché e come se gli come se gli passasse tutto il suo amore sento proprio questa energia di amore che passa al figlio molto forte bello cioè non dico non dice niente ma dice tutto ecco ma c'è stato questo affetto in vita non erano i tempi no lo vedo no perché cioè se guardo quando era piccolo vedo il lavoro l'uomo che deve lavorare portare a casa da mangiare in mangiare non c'era tempo come hai detto tu giusto non erano i tempi e non c'era il tempo però lo vedo un bravo papà comunque di poche parole a me arriva che erano quelle persone che parlavano poco ma quando parlavano dicevano cose sensate importanti se diamo al nonno una vic una pillola inventata vibrazione informazione consapevolezza quello che serve alta frequenza informazione soprattutto quello che stiamo facendo il gioco eccetera la consapevolezza nella risultante la conseguenza si è spogliato di tutto e e si è alzato lievitato solo energia avete solo energia adesso vedi ancora così coinvolto rispetto a francesco e suo padre no 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 è come se si fosse già staccato da tutto è già staccato da tutto il nonno era il disincarnato collegato a francesco si era lui sì perché quando lo vedevo dietro francesco vedevo solo questa sagoma nera e vedevo un cappello che poi anche qua è arrivato con un cappello con i reni un cappello sì sì che cosa quindi era legato alla terra e farlo legato al lupo i sì e mi viene a un campo vedo un campo vedo un prato cosa ha causato si ha causato qualche problema a francesco mi arriva fisicamente un po di mal di schiena alla zona lombare e anche emotivamente mi arriva questa sensazione il nonno che ha un po e rimpianto di non essere stato abbastanza vicino ai figli e mi arriva che anche francesco a volte a questo questa emozione molto rafforzata dal nonno come se sentisse non era una sua mozione l'emozione del nonno va bene lo salutiamo lo mandiamo nel portale aureo se lui vuole vediamo sì 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 è che sta andando volando quindi come un palloncino si muove come un palloncino si è passato è schizzato via proprio sì sì come lo vedi il portale io lo vedo con tanti colori una luce immensa ma di tutti i colori la vedo rossa la vedo giallo vedo il verde questa energia che esce fuori che gira verde giallo rosso verde giallo e rosso è un po giallo rosso prevalentemente questi colori qua che girano si muovono ok lo chiudiamo fatto perfetto dieta paleo base proteica a lui fa bene o un fa male allora a lui fa bene che sia lui fa fa bene forse mi arriva dovrebbe non so se mangia tanta carne mi arriva pochino di carne in meno dovrebbe mangiare tutto il resto tutto quello che eliminato va benissimo quindi più pesce più uova si è un po meno è formaggio formaggio e carne ecco un pochino meno più pesce più uova verdura si va bene deve solo ridurre ancora di più la carne e formaggio si formaggio però mi sembra che non ne mangi tantissimo vedo così lo deve ridurre un po la carne perché termini energetici sempre sì 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 non fa a lui serve a lui la carne serve a lui serve la dove ridurla un po e mi arriva l'immagine che prevale è quella rossa mi arrivano questi bistecconi rosse vedo se quella rossa va bene no deve no deve ridurla si eliminarla magari anche però ridurla lui la carne serve però comunque nell'insieme deve ridurla soprattutto quella rossa va bene però gli fa benissimo cioè io vedo che lui sta proprio bene con questa dieta vedo proprio energico lo vedo in forma lo vedo anche si si presenta muscoloso e sportivo il vedo proprio bene sì sì scusa bene immagine finale cioè scena finale ci sei tu c'è francesco metti di fronte a te poi chiamiamo la compagna e fate fate un triangolo e poi entro anche io e siamo in 4 invece guardiamo chiedo a tessere a se chiedo a tessere ma di creare una d'eterno davanti a noi tre questa struttura questa palla questa elemento di energia che è assolutamente personale creato e messo dove noi vogliamo e come dice il nome resta lì per sempre se noi non lo spostiamo lo eliminiamo nessuna entità nessun esterno buone il nostro spazio energetico interferire questo sì dimmi come l'hai creato ah io faccio così delle mie mani esce l'energia faccio così diventa in un attimo diventa grandissimo questo cerchio di palla questa sfera doveva proprio in un nanosecondo ora che l'hai fatto vedere a francesco chiedigli di crearne uno sì sì già fatto anzi lui ne ha fatto gli ha fatto uno in una mano come una palla grande come una palla in una mano mano destra mano sinistra e poi li ha uniti così diventato una palla unica chiedigli di metterlo nel lavoro radioestetico estesico che è stato fatto al suo piccolo danno sì fatto vedo vedo questo lavoro vedo questo circuito che diventa fa tutto polvere di uccioline stesso se ne si si diverte no a farlo una di termini piace che si gioca se ne crea un altro se lo mette nel corpo fisico cinque corpi primo corpo fisico dove lo mette nello stomaco secondo corpo emozionale l'emozione sulla rabbia sì e questa rabbia che poi un po sfiducia anche diventa perché appunto vorrebbe vorrebbe finire tutto ea volte dice sono stanco no su stufo ecco comunque tutto sento questa parte qua dello stomaco della pancia rabbia 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 si rabbia e stufo non so di sì che non deve essere corpo mentale vedo che lo mette qua dice il terzo occhio l'ho mai forte corpo subliminale vabbè non ha un punto il corpo subliminale subliminale corpo eterico questo invece di solito c'è una posizione io vedo che il fan cerchio e lo metto tutto intorno mi fa una palla e si mette dentro a questa palla praticamente ora chiediamo francesco di essere inquadrato nel cinema in primo piano e di rivolgersi ai componenti del paese o comunque tutti quelli che pensano di lui un gran male e insegna loro a crearsi un ad eterno siccome ha fatto lui la prima prima di insegnare loro a fare un ad eterno vedo che fa delle bolle di sapone ad eterno per mandarle cinquantina di esatto sì in modo e loro le prendono prendono così bene e adesso gli fa vedersi fai fare una d'eterno ma piacere alla sua compagna siamo ancora link tutti quattro sua compagna l'ha fatto è grande tutta la stanza del cinema la sua compagna mi piace è una tosta sì sì ma animicamente che sono loro è in che senso sono vicini simili io guarda quando abbiamo fatto quando tu mi hai detto mi arrivo io mi metto vicino prima di fare la d'eterno loro li ho visti è presente quando ci sono dei disegno quando si ritagliano i fogli che vengono i due omini attaccati ecco erano così gli omini attaccati esatto i piedi e io vedevo scossero questa parte sopra tutta la parte del vino a me fino al bacino e giù mandare alla spalla al bacino è così li vedevo così quale fianco di francesco e quindi lo francesco sinistro e lei destra nostro lei fianco destro quindi lei sta a sinistra e lui sta a destra esatto sì è classico molto molto interessante molto molto interessante bene quindi proposito di loro due dopo andiamo a cluster dopo facciamo quella cosa lì comunque proposito di loro due progetto yoga insieme prospettive consigli sì no sì ma allora ti dico prima di tutto ti dico che li stavo visualizzando ancora attaccati e nel momento che hai fatto la domanda è uscita da loro un'energia stile fontana questo già per simboleggiare la grande potenza che hanno insieme ok diamo al progetto io vedo una grande anche qui mi vengono un po i brividi io vengo vedo una grande riuscita del loro progetto io li vedo adesso non so di preciso cosa devono fare però mi visualizzo questa casa in legno vuoto è tutto un open space sì sì un open space dove vedo loro che fanno delle lezioni dei corsi vedo tante persone dentro è grande e vedo dei corsi li vedo anche immersa con questa casetta sempre immersa del verde in montagna come se loro facessero dei organizzassero non lo so ed eri bravo dei ritiri delle giornate un seminario magari di due tre giorni e io vedo che mi viene a pelle d'oca e vedo che va benissimo io vedo che va benissimo certo sempre mantenendo una pulizia perché comunque arriva tanta gente quindi loro dovono sempre mantenersi puliti molto puliti continuamente però io la vedo molto positiva di qualsiasi cosa hanno intenzione di fare io vedo che andrà buon fine e anche alla grande e lei la vedo stupenda anche lui è ma lei in modo particolare va bene andiamo al cluster il posto in cui francesco per tutte le sue 1454 vite ha nascosto messo infilato i contratti che caratterizzano tutte queste vite tra cui appunto i contratti di quello attuale che ti posso dire una cosa che mi arrivava quando dicevo che era stupenda l'ex compagna e anche di per questo che gelosa perché chi la conosce sa la bellezza che ha questa donna adesso non so io parlo a livello energetico interiore scusa e quindi per quello che l'ex quella della lettera sì per quello scatta poco sta gelosia perché sa che lui ha trovato una persona veramente straordinaria vada casta cluster dimmi come vedi i contratti se li vedi come vedi il cluster vedo un paesaggio vedo il mare e vedo e vedo tante ma non capisco sommare un lago e vedo è un lago il lago con le montagne come dove ho visto lui da ragazzo nell'altra vita di enrico che vedo quello stesso paesaggio di arrico e vedo tante barchette di carta che galleggiano vuole eliminarle vuole tenerle vuole analizzarle vuole cambiarle cosa vuole fare no le ha pescate con un peccino e ne tiene solo una ce n'è una che è quella della vita del maestro di arti marziali e yoga in giappone la sta solo guardando per tenere ciò che è positivo per lui che può servirgli in questa vita attenzione il contratto non elimina la vita non elimina la soprattutto quello che si è imparato dalla vita alla presa si è come detto così la pallottolata basta tirato eliminando le vite sarebbe una follia totale siamo qui per fare esperienza nell'eliminiamo ovviamente elimina i contratti cioè quello che li lo lega a degli obblighi verso dei programmi l'entità né più né meno delle invenzioni questo si può riflettere solo che positivamente nella sua attuale vita perché alcuni di questi contratti possono pesare sulla sua attuale esistenza e quindi impedirgli di vendere una casa impedirgli di digerire bene di mangiare certi alimenti di cambiare dieta senza nessun effetto sulla propria aspetto il proprio fisico torcione degli esempi a caso ovviamente non legati per forza a lui benissimo ormai li sa fare qui nel cluster a guardiano della situazione può mettere un all'eterno magari ispirandosi a quello fatto dalla sua compagno bello grande sì ha fatto sì e l'ha messo anche uno nella casa 122 ne ha messi nella casa che lui vorrebbe vendere uno lì è nel cluster una casa benissimo avatar un fantoccio è quello l'ho visto già prima quando ha tirato sulle barchette sulla spiaggia di questo lago c'era un banchetto con l'avatar e ha pescato oppure lui corretto da giardino è tutto nel retino non l'ha eliminati ancora i contratti quindi no sono nel retino no 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 li eliminiamo se li ha presi vuol dire che li vuole eliminare si apra un portale definitivo dove tutto tutto ciò che entra che non può che essere energia viene scomposto all'infinito definitivamente non distrutto non si può fatto adesso fa così si è fatto bene mettiamo un unico ad eterno queen cluster dove è entrato anche l'avatar c'è anche la compagna si tengono per mano e lo fanno insieme uno con la mano sinistra uno per la mano destra bellissimo sì è sempre in mezzo sta compagna è sì si vuole è come se fossero tutt'uno quindi secondo te che cosa sono ma secondo me sono fiamme perché lo dici è perché da 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 sempre vedo questa unione che si attaccano ma anche la ps la vedo che si attacca e ma da questa grande energia che diventano una cosa sola si fondono vedo le due ps oltre ai corpi che vedeva attaccati le due ps attaccate e si fondono così e diventa tutto l'energia così che spalle mi piace bello lo spettacolo sì 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 molto molto bene quelle quattro entità il falco disincarnato no e le dl ci sono ancora 4 per modo di dire con le due disincarnato era il nonno quindi non c'è sì basta sì l'entità mentale rassegnati non ce la farai mai c'è ancora no due in tre impianti ci sono ancora no ok la vita nel saloon del texas dove le tre donne che ostacolano in questa vita all'epoca avevano giurato di fargliela pagare l'ha eliminata no vedo che non l'ha eliminata ma è cambiata la situazione lui è gentile con loro vedo così cioè non l'avete eliminata vedo che lui cambia atteggiamento come se fosse reso conto di aver sbagliato cambia tutta la situazione cambia atteggiamento verso di loro e quindi stanno tutti bene ok esiste ancora con queste condizioni in questo qui ed ora il il piccolo lavoro la picco il piccolo sortileggio a suo danno esiste ancora no no c'è più no non c'è più quello che mi arriva anche ma allora non energia stupenda quindi magari di lavorare con queste ad eterno ma è anche in casa mettere qualcosa che tenga pulita tutte le energie di casa casa al lavoro che ottenga tutto al di fuori da quello che mi dici la compagna lo fa lui lo fa potrebbe fare ma loro sì lo loro lo fanno però vedo proprio di aiutarsi vedo come formare un perimetro con con qualcosa che gli possa aiutare adesso io vedo dei cristalli per dire che mantenga pulito gli angoli della casa che formano poi basta l'intento però da fare sì sì magari ecco metterci l'intento all'inizio quotidianamente nuova vibrazione di francesco 268 miliardi la vibrazione della compagna 320 miliardi consapevolezza di francesco 260 psp e di francesco adesso mi da 72 ps questo momento è libero la vedo sì la vedo ea sera 69 vite precedenti 542 però un terzo è rimasto a non ha tolto quella del saloon quella di enrico e quella del maestro sono ancora presenti sì cervello 10,2 ancora così 12,8 messaggio di francesco a se stesso e di francesco alla compagna lui si dice sì luce sì l'orizzonte apri la strada e gli fa vedere che lungo la strada c'è un'immensa luce e dice vai avanti verso l'orizzonte perché tu sei luce e tu puoi illuminare tutto e l'accompagna se la mia stella e vedo che vedo lei d'alto come se ne fosse la sua guida la sua guida un punto forte per lui e sono una cosa sola quindi c'è la mia stella e gli dà un bacio non gli dice molto gli dà un bacio e vedi si uniscono e io quando loro si uniscono che si baciano io vedo questa energia in un vortice bellissimo e rivedo la rappresentazione vedo questo vortice poi li vedo come se volano in cielo hanno questo scatto diventano tutte energie hanno questo scatto e li vedo andare in cielo e diventare una stella e vedo una stella quindi sei la mia stella per quello eh sì e francesco come lo vedi battuta finale lo vedo benissimo energico piena di energia sorridente e dà la mano a lei brava serena ti sei divertita sì sì è emozionante in certi punti sì è diversa lei bella basta adesso magari magari un rospo non lo sappiamo è bella dentro è bella dentro è un tipo è un tipo va bene e sei contenta di questa esperienza di ipnosi sì 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 contentissima sì mi piace vedere mi piace vedere queste mi piace vedere oltre è sempre scoprire qualcosa qualcosa di bello di nuovo di emozionante è bello in quelle che hai fatto in passato avevi il mal di testa in questa no 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 quindi adesso ti accompagno sconnettiti da tutto e tutti diciamo no 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 Grazie a tutti.